Buonasera Londra, anch'io come voi adoro le vacanze natalizie, le abbuffate sfrenate, il dolce far niente. Ne godo quanto chiunque altro, anzi forse di più. Tuttavia ho pensato che potevamo rubare 5 minuti di questo prezioso tempo per ricordarci due cose importanti. Forse le uniche due cose che val realmente la pena di ricordare. La prima è chi sei e questa domanda apparentemente semplice in realtà non ha una facile risposta perché esistono tanti di noi quante persone ci conoscono e quindi esiste un Andrea Biasci per sua mamma che è diverso dall'Andrea Biasci per sua moglie o dai suoi amici o dai suoi lettori. Se conoscete mille persone esistono mille di voi differenti e poi esiste un chi siamo anche per noi stessi. Ma quanto la percezione che abbiamo di noi è differente rispetto a quella che hanno gli altri? Quanto il nostro ego e i nostri filtri ci fanno percepire differenti rispetto alla realtà? Ricordati chi sei e tu non sei i tuoi vestiti, la tua casa, il tuo lavoro, il tuo conto in banca e non sei neanche la tua famiglia e i tuoi figli. Tu sei le tue azioni perché la differenza che c'è tra chi sei e quello che pensi di essere è la distanza che intercorre tra quello che hai fatto e quello che avresti voluto fare. La seconda cosa che ci dobbiamo ricordare e che è strettamente collegata alla prima è perché cosa ti batti. La nostra società ci spinge a lamentarci perché chi si lamenta è il primo a non fare niente per cambiare. Noi nel nostro piccolo abbiamo provato a dire la nostra, abbiamo provato a fare qualcosa. Il mondo del fitness fa schifo, si passa da estreme banalità, ha enormi supercazzole. Anche l'università che dovrebbe dare una guida non è capace di distinguerle e la teoria rimane sempre staccata dalla pratica. In questo quadro desolante abbiamo provato a dire la nostra, senza la paura di sbagliare, con la voglia di ascoltare e di metterci in gioco. Tra poco saranno passati due mesi da quando è uscito il nostro primo libro. Abbiamo provato a scrivere un libro sull'alimentazione senza dire questa è la dieta vincente, questa è la verità. Abbiamo messo tutte le carte in tavola e abbiamo lasciato il lettore la capacità di scegliere una volta che conosceva. Dopo Project Nutrition pubblicheremo nuovi libri che affronteranno tutti gli argomenti del mondo dell'alimentazione e dell'allenamento. Non so ancora dirvi quando usciranno perché noi quando creiamo un prodotto non lo facciamo per vendervelo ma lo facciamo per noi stessi. Noi siamo appassionati di quello che facciamo e quindi ci prendiamo tutto il tempo che serve per creare dei prodotti eccezionali. Stiamo creando anche dei corsi di formazione anche se probabilmente inizieranno a vedere la luce nel 2017 ma ci stiamo già lavorando da un po'. A questo punto sono convinto che tra i lettori ci sarà già qualcuno che borbotta e sta criticando. Bene alle persone che ci criticano diamo un invito. Fate. Se non vi va bene quello che facciamo fate di meglio. Se creerete degli ottimi prodotti saremo i primi ad acquistarli. Sappiate che però ad oggi il mondo si divide tra chi critica e chi fa. Vi auguriamo un buon 2016 e ricordatevi sempre chi sei e per che cosa ti batti. Nel 2016 faremo molti più tutorial, gireremo l'Italia alla ricerca dei professionisti, degli allenatori e degli atleti più bravi. Abbiamo ancora tanto da imparare? Fuori dal Project Invictus ci sono ancora tante persone che hanno molto da insegnarci e quindi da buon appassionati passeremo un 2016 a studiare ed applicare. Il nostro motto, questo nuovo anno, sarà racchiuso in questa frase. Ogni persona che incontri è più brava di te in qualcosa, in quella cosa impara. Non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon 2016 e ricordarvi che il Project Invictus è e sarà sempre la gorà delle persone che si allenano con la testa, con il fegato e con il cuore.